Pescara Messina di fatto un testa coda ma come sempre ogni partita fa storia a sé, non è affatto banale ricordarlo, diversi cambi, dunque turnover probabilmente corposo che Colombo spiega con dovizie di particolari. Togliamoci dalla testa che viene fatto se dovesse essere fatto turnove e c'è questa possibilità ma non perché sottovalutiamo il Messina, anzi credo perché noi vogliamo continuare a tenere un'intensità che è stata una forza soprattutto nella prima parte di campionato. Oggi magari è venuta un po' meno soprattutto nella fase difensiva quindi dobbiamo essere una squadra intensa proprio perché davanti domani avremo una squadra che probabilmente in certe circostanze sarà intensa per mentalità dell'allenatore, di conseguenza devo controbattere con freschezza. Se così fosse dovrebbero riposare Milani, Palmiero, Mora e Lescano. Il probabile 11, Plizzari tre pali in difesa Cancellotti, Brosco, Bobben e Crescenzi. Mediana soprattutto muscolare, Giabuà, Craia e Aloy. Davanti prima da titolare in campionato per Vergani, novità sostanziale. Ai lati Cuppone e De Sogus al momento in vantaggio su Colai. Di fronte appunto il Messina dell'ex Auteri, un solo indisponibile, il lungodeggente piazza. Dopo la squalifica torna a disposizione il guineano Conetè. Questa la probabile formazione, Lewandowski tre pali, Berto, Camilleri e Filì nel cuore della difesa. Sulle fasce Fiorani e Fazzi, in mezzo il tandem marino Fofanà. Per scelta, attacco senza prima punta, tutti i giocatori di movimento, Iannone, Baldè e Catania. Cominceranno dalla panchina l'esperto curiale, l'ex Paolo Napoletano, ventenne di penne cresciuto nel vivaio Bianchezzurro. In realtà modulo elastico, 3-4-3 in fase di costruzione, 4-3-3 in fase difensiva, con Fiorani nel ruolo naturale di Mezzala e Fazzi terzino sinistro. Rispetto alle uscite precedenti, non mi attendo una squadra che sia rinternata nella propria mente a campo e lucri sulla fase difensiva per poi ripartire. Anzi, mi aspetto il contrario. Le immagini di alcuni precedenti all'Adriatico, tutti disputati in B. 21 dicembre 1986, di fronte Galeone e il compianto Franco Scoglio. Brevissima esperienza alla guida del Delfino nel 93, tra i tifosi primo gemellaggio, durato 30 anni sino al 2016. Assenti Berlinghieri e Gaudenzi, prima da titolare per Felice Mancini. Sblocca Stefano Rebonato nella ripresa, punizione di Bellopede, colpo di testa di Rossi, finisce 1-1. 4 marzo 1990, il Pescara di Reia, opposto alla Messina di Adriano Buffoni, subentrato a scorsa. Pagano, Rizzolo, Longhi, quest'ultimo atterrato in area da Desimone, rigore netto trasformato da Pasquale Traini. Quindi il raddoppio di Caffarelli, bel gol, un minuto dopo il suo ingresso in campo. 4 novembre 1990, la stagione successiva, il Messina di Beppe Materazzi e Spugna all'Adriatico. L'ex Traini innesca Cambiaghi, sterzata su Gelsi e sinistro sul Palolungo. Nulla da fare per Manini, primo KO casalingo per il Pescara di Carletto Mazzone, che di lì a breve verrà sostituito da Giovanni Galeone. 16 febbraio 1992, match a senso unico. I biancazzurri creano tantissimo, ma senza concretizzare. Espulso l'ex Detrizio, Messina in dieci. Risolve Michele Gelsi al novantesimo. Specialità della casa, destro all'incrocio. Meraviglia balistica, che fa esplodere l'Adriatico. In gare ufficiali, l'ultimo incrocio risale al 27 marzo 2004. Le prodezze di Storari, soprattutto la pessima serata di Trefoloni di Siena. 1-0 dell'ex Sullo, nella ripresa raddoppio di Guzman. Accorcia Fabio Alteri, espulso Antonaccio. Il Messina dell'ex Bortolo Mutti, poi promosso in A, vince 2-1. Peggiore in campo il fischietto toscano. Così, a fine match, Ivo Iaconi e soprattutto il compianto presidente Pietro Sibilia. Buttarsi in campo e a terra e rimanerci fino a quando non si butta la palla fuori è una cosa ridicola. Gli arbitri purtroppo di calcio, e questo lo posso dire sinceramente, non ne capiscono. E il vero problema è che gli arbitri non capiscono di calcio e non preservano lo spettacolo del calcio. L'arbitraggio del genere oggi è stato disonesto, è stato vigliacco, è stato venduto, che glielo ho detto in faccia, non glielo ho mandato a dire. E poi gli ho detto altre parole che in televisione non voglio ripetere. Quando dicono che il Pescara non ha peso politico è la verità? È la verità, sì, perché non ha debiti e allora non ha peso politico.